Non doveva partire questa volta, ha deciso lunedì di andare e per certi versi è stato meglio così, sembrano parole grosse ma sì, insieme fino alla fine. Carlo Spini e Gabriella Avigiani, la coppia retina tra le 157 vittime del disastro aereo in Etiopia, era partita lo scorso sabato per una nuova missione umanitaria per conto della ONG Africa, a Tremira di cui lo stesso Spini era presidente. Lui medico, la infermiera, entrambi residenti a Sansepolcro, da tempo si dedicavano al volontariato. Il babbo nel 2002 è andato in pensione a marzo e a giugno ha detto io parto, voglio andare a fare il medico. Ha riscoperto una professione, ha riscoperto una passione. Ieri la coppia si era imbarcata da Addis Abeba per raggiungere Nairobi e poi il Sudan per l'inaugurazione di un ospedale. Tutti i suoi progetti, lui li ha seguiti partendo veramente da zero, li ha cresciuti, cioè lui li sentiva tutti suoi, era quello che gli dava forza. Ma alle 8.44, ora locale, sei minuti dopo il decollo, il Boeing 737 dell'Ethiopian Airline è precipitato, un drammatico schianto, nessun supessite. Lì per lì non abbiamo subito fatto due conti, poi dopo piano piano il cerchio si è incominciato a stringere e piano piano ci siamo resi conto che quella telefonata non sarebbe mai arrivata. Carlo e Gabriella lasciano quattro figli. In ognuno di noi c'è lo sguardo, il sorriso dei nostri genitori. Ci lasciano un esempio importante di amore, di amore verso la famiglia, verso il prossimo, verso la vita in generale. Resta adesso l'attesa per il rientro delle salme dopo il rilascio da parte delle autorità etiopi che svolgono le indagini. Può finire così, questo non ci riporterà ai genitori, sinceramente io non sono neanche un giustizialista, non è che mi aspetto, chissà, sicuramente c'è una responsabilità di parte di qualcuno, colposa. Se non altro perché non riaccada.